Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dopo aver discusso in linea generale quelli che erano gli aggiornamenti di oggi, quindi l'inserimento della ranking battle e anche l'inserimento di questo nuovo banner, è giusto discutere un po' di quello che effettivamente porta all'interno del gioco un'arma come questa di Yuffie. Un'arma che in realtà mi ha spiazzato, non avrei immaginato fondamentalmente di vedere un'arma in grado di fare queste cose, nello specifico, perché ovviamente all'interno del gioco abbiamo comunque avuto abbastanza spesso personaggi che si occupassero della fase offensiva e personaggi che si occupassero della fase difensiva. Mentre invece in questo caso che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che l'arma di Yuffie fa due azioni che occupano la parte offensiva e la parte difensiva. Quindi è una cosa molto interessante, potrebbe effettivamente essere, non dico un nuovo meta, ma permettere di cambiare le carte in tavola anche per quanto riguarda il setup di vari personaggi. Io personalmente sto lavorando ad una nuova guida che per l'appunto voglio far uscire durante questo anniversario proprio per aiutare tutti i giocatori che stanno iniziando a giocare e tutti i giocatori che stanno rientrando all'interno del gioco cercando di indirizzarli verso quelle che potrebbero essere le armi da poter ottenere per avere dei setup e riuscire comunque a giocare in tutta tranquillità. Anche se Cloud comunque fa l'80% del lavoro, però è giusto avere comunque dei personaggi che possano buffarvi o comunque dei personaggi che possano difendervi in generale. E qui Yuffie mi ha spiazzato, perché è il primo praticamente personaggio in questo caso che buffa sì gli alleati, ma dal punto di vista difensivo. Cioè solitamente noi abbiamo comunque delle armi che o curano o comunque buffano la difesa o comunque buffano in generale le nostre resistenze, però senza effettuare dei danni. Mentre invece in questo caso Yuffie riesce praticamente a fare danno al nemico e ad incrementare la difesa magica di tutti i nostri alleati. E questo ragazzi è un vantaggio non da poco. E' un vantaggio non da poco perché permetterebbe a personaggi come Matt, come Barrett o come qualsiasi altro personaggio di non occupare uno slot delle armi per buffare la difesa, per buffare la difesa magica. Potremmo utilizzare paradossalmente un Matt o comunque paradossalmente un qualsiasi tipo di support in modo più offensivo, soprattutto in quelle challenge dove necessariamente bisogna magari breccare i sigilli, quelli abilità. Quelli che Matt, Barrett, Tifa tramite le armi di Bahamut riescono a rompere o Barrett e Red riescono a rompere tramite le nuove armi. Quindi potrebbe essere un vantaggio estremamente alto, proprio dal punto di vista strategico. Anche perché i danni sono comunque interessanti. Abbiamo un 1080 ad overboost 10, ma abbiamo un 960, 980, ora non ricordo, lo andiamo a vedere, con overboost 6. Ed overboost 6, quest'arma di Yuffie secondo me è veramente game changing. Anche perché, se andiamo a guardare nel dettaglio, abbiamo praticamente l'arma di Yuffie che di base già parte con un 540% e aumenta la difesa magica di tutti gli alleati in potencies mid. Quindi vuol dire due tacchette. Se invece andiamo ad overboost 6, ecco abbiamo addirittura un 950 di danno fisico che viene moltiplicato per 1.3 se l'avversario è debuffato, ma al tempo stesso la difesa magica viene potenziata mid, ma la max potencies è high. Quindi noi con due attacchi riusciamo fondamentalmente a maxare la nostra difesa magica. E questo ragazzi è un punto estremamente a favore di Yuffie. Perché ovviamente non elementale significa che può essere utilizzata ovunque. Il vantaggio dei non elementali è proprio il fatto di poter essere utilizzati ovunque. Perché magari hanno un impatto meno potente rispetto all'Arcanum. Perché ovviamente un Arcanum su debolezza elementale ha un vantaggio esorbitante. Però al tempo stesso utilizzarla come arma secondaria o comunque anche come arma primaria proprio per buffare in generale il party sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo è un'ottima alternativa. È una grandissima alternativa. E quest'arma mi ha veramente spiazzato. Io la trovo estremamente valida. Ed è un problema perché io che sto risparmiando per una Tifa che paradossalmente parlando adesso mi è venuto veramente il dubbio che possa essere veramente killer perché sta circolando la voce che Tifa possa effettivamente essere una killer in questo anniversario. E se così fosse sarebbe una delusione allucinante. Però c'è anche da dire che questa Yuffie mi intriga parecchio. È ovvio che non pullerò subito. Almeno col mio profilo principale non pullerò subito Yuffie. Col secondario però è molto probabile che tenterei di arrivare ad Overboost 6 e cercare di avere comunque questo personaggio che può effettivamente aiutarmi. Anche perché ripeto, unire attacco fisico con la difesa magica è tanta roba. Veramente tanta roba. Non sottovalutatela quest'arma. Veramente non sottovalutatela perché io reputo che sia veramente veramente ottima. Poi per quanto riguarda ovviamente le Refined, per quanto riguarda il costume praticamente abbiamo le stesse di Cloud. Quindi sappiamo già ovviamente a che cosa andiamo incontro. E poi l'Ultimate l'abbiamo già vista e analizzata nel dettaglio nel banner di Cloud. Quindi se vi va di guardare anche l'analisi del banner di Cloud troverete anche l'analisi dell'arma Ultimate. Però ragazzi veramente è una bella arma. Mi piace tanto. Devo essere onesto. Mi piace tanto. Mi ha spiazzato questa cosa. Perché anche dal data mining in generale o comunque da quello che effettivamente era ciò che ci faceva vedere il gioco l'animazione di Yuffie sembrava appunto essere un buff. Solo che l'animazione che hanno leakato sia dai trailer che anche dal data mining era praticamente l'animazione iniziale. Perché Yuffie qui ha due animazioni che ora vi faccio vedere. Ecco qua vedete Yuffie prima buffa e poi fa l'attacco. Quindi vedendo soltanto la prima parte dell'animazione ero abbastanza convinto del fatto che potesse essere lei la buffer in questo caso dell'anniversario. Però non mi sarei mai aspettato che a questo buff si unisse un attacco così forte. Perché comunque già 950 ad overboost 6 è tanto. e che soprattutto facesse questo 2 in 1. Quindi danno e buff di difesa magica. Che è utilissimo. E avere la possibilità di attaccare e nel frattempo difendersi è veramente una roba da non sottovalutare. Quindi ragazzi pensateci con calma. Vi consiglierei magari di non pullare subito. Aspettare magari, magari, che ne so, Ifa o Eris. Se vi interessano magari quei personaggi. Perché in base a quello che faranno anche loro uno potrà attirare le somme. Però c'è da dire che questa Yuffie mi piace tanto. Mi piace veramente, veramente tanto. E considerate anche il fatto che possa essere utilizzata con il doppio setup Bahamut, diciamo arma Bahamut Cutter e Arctic Star. Praticamente avremmo una Yuffie che può buffare e nel frattempo attaccare contemporaneamente. Cioè, buff di attacco fisico. Buff di difesa magica. E praticamente attaccare pure. Praticamente diventerebbe un ibrido supporto eccezionale. E questa cosa un po' mi spaventa per quello che potrebbe venire in futuro. Cioè, potrebbe letteralmente ribaltarsi il meta. Giocare veramente con 3 DPS che possono curare e difendersi contemporaneamente. I personaggi di supporto rischiano di prendere delle cantonate allucinanti. Ed essere messi da parte. Perché comunque se un personaggio riuscisse a curare e ad attaccare contemporaneamente. Anche se Tifa, faccio l'esempio, riuscisse a curare e ad attaccare contemporaneamente. Sarebbe un qualcosa di eccezionale. Perché si andrebbe a pullare ad occhi chiusi. Quindi capite bene che la situazione è difficile. Questo anniversario mi sta mettendo in crisi. Devo essere onesto. Questo anniversario mi sta mettendo in crisi. È un banner dove, secondo me, non è prioritario. La priorità, in questo caso, è Cloud. Soprattutto per i nuovi arrivati. E per chi sta ricominciando a giocare. Cloud è la priorità. Però questa iuffi, tenetela d'occhio. Tenetela d'occhio perché è veramente, veramente interessante. Detto questo, non ho nient'altro da dirvi. Fatemi sapere ovviamente anche cosa ne pensate voi. Fatemi sapere se siete d'accordo. O magari pensate a un qualcos'altro che a me magari è sfuggito. Perché potrebbe anche essere. E detto ciò, io vi aspetto con i prossimi appuntamenti. E vi ringrazio al solito per la vostra presenza. Ciao.